Cambiamo argomento, parliamo di olio extravergine, questa volta però non italiano ma quello straniero perché Coldiretti denuncia la forte quantità di olio importato che mette in pericolo la produzione regionale quindi per questo chiede che vengano intensificati i controlli affinché prodotti importati non vengano spacciati come prodotti nazionali. I magazzini di stoccaggio in Puglia sono pieni di oltre 9 milioni di chili di olio extravergine d'oliva straniero con un aumento di quasi il 10% rispetto a dicembre dello scorso anno e quanto emerge dall'analisi fatta da Coldiretti Puglia è basata sui dati diffusi dal Ministero delle Politiche Agricole in relazione ai prezzi in caduta libera dell'olio che stanno mettendo in seria difficoltà i produttori pugliesi già piegati dalle gelate dell'anno scorso. Serve intensificare l'attività di controllo e vigilanza per evitare che vengano spacciati come nazionali prodotti importati ma è anche necessario al più presto recepire la Direttiva Europea sulle pratiche commerciali sleali del 17 aprile 2019, dice Coldiretti, per ristabilire condizioni contrattuali più eque lungo la catena di distribuzione degli alimenti. La Direttiva prevede anche l'introduzione di elementi contrattuali e sanzionatori certi rispetto a prassi che finora hanno pesantemente penalizzato i produttori. L'invasione di olio d'oliva spagnolo con le importazioni che nel 2019 crescono del 48% non fanno che aggravare la situazione con pesanti ripercussioni sul mercato italiano, denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, che sottolinea come l'olio extravergine di oliva made in Italy non possa essere venduto a meno di 7-8 euro al litro. Bisogna guardare con più attenzione le etichette, dice Muraglia, e acquistare solamente olio ottenuto al 100% da olive italiane. Il Consiglio di Coldiretti Puglia e consumatori è anche acquistare l'olio direttamente da aziende olivicole e frantoiani che fanno della tracciabilità il fiore all'occhiello aziendale.